amici dell'us città di palermo nuovo appuntamento di rosa nero dj abbiamo le cuffie abbiamo il pallone c'è con noi gabriele rolando ciao gabriele ciao buongiorno allora pronto per darci la tua top 5 prontissimo le prime cinque canzoni che ti fanno impazzire ci sono sono pronte immagino che siano quelle che ascolti prima di ogni gara assolutamente allora facciamo così ti do la cuffia ecco qua io prendo il pallone e noi siamo pronti per farvi sentire la top 5 di gabriele rolando posizione numero 5 dark polo gang e cono gelato posizione numero 4 sfere basta trantran posizione numero 3 fedez comunistico rolex posizione numero 2 gali happy day posizione numero 1 vasco rossi rewind questa la top 5 di gabriele rolando mi sembra abbastanza eterogenea c'è di tutto sì sì c'è un buon mix senti invece ce l'hai una canzone d'amore che vorresti dedicare ad una donna ci hai mai pensato per fortuna ancora no ancora niente perdiamo tempo non è il momento adatto allora dobbiamo fare cambio io ti ritorno il pallone e tu mi ritorni la cuffia però è perché io torno a fare il dj tu torni a fare il calciatore forza palermo forza palermo grazie a tutti 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 Grazie.